Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Shelley a Livorno di Patrizia Poli Il poeta inglese Percy B.C. Shelley, nato nel 1792 e morto nel 1822, complice di eredità del nonno e per ovviare alla salute malferma dovuta alla tisi che l'ominava, scelse di trascorrere molta parte della sua vita in Italia. Luoghi di elezione furono Napoli, Pisa dove lo raggiunse Byron e Livorno. A Livorno soggiornò tre volte nel 1818, nel 19 e nel 22, anno della sua tragica morte in mare. Fu ospite di amici inglesi ma alloggiò anche a Villa Valsovana dove compose la tragedia Decenci pubblicata nel 1819 a cui attinse anche il Guerrazi e le famose To a Skylark e To Freedom. Da giugno a settembre del 1819 Shelley e Mary Wollstonecraft si stabilirono a Villa Valsovano. Mary era molto abbattuta avendo visto morire due dei suoi tre figli in un anno. Solo nel maggio precedente erano venuti a Livorno con tutti e tre i bambini e due domestiche ma ora la casa era molto più triste. Shelley cercò rifugio nel lavoro e quell'estate sul tetto della villa compose Decenci, tragedia dal gusto gotico basata sulla storia di una famiglia realmente vissuta nel Cinquecento. Ne furono stampate nella nostra città 250 copie poi spedite a Londra. L'estate dopo erano nuovamente a Livorno e Shelley compose la famosa ode alla lodola che in pieno romanticismo prima maniera precorriva già quello che sarà il nostro decadente gelsomino notturno e alcune liriche wildiane cariche di sensualità estetizzante. Villa Valsovano si trova in via Venuti 23 e una lapide del 1962 ricorda il soggiorno di Shelley. Fu nel golfo di Aspezia davanti a Lerici che tornando in una barca proprio da una gita a Livorno l'8 luglio del 1822 Shelley naufragò in una tempesta. Il suo cadavere fu ritrovato dieci giorni dopo su una spiaggia nei pressi di Viareggio. Potete riascoltare questa puntata in on demand su